Allora buonasera a tutti abbiamo la squadra campione d'Italia, la squadra come si chiama? Fibonacci! Fibonacci! Presentiamo i componenti della squadra, tu sei? Sascha Cocchi Tu? Maurizio Brizzi Simone Bonini credo Eric Novieri C'eri anche tu? Sono la coach Sei la coach, abbiamo anche la coach E quella ci ha fatto le domande per tutto il tempo per allenarci Esatto Pensate, posto in classifica come vi siete posizionati? Prima del secondo Prima del secondo, quindi primo Ecco qua, abbiamo anche la coppa che ne testimonia Bene, da quanto tempo partecipi alla Champions Quiz? Tre anni Tre anni? Mentre per te? Non è potuto venire però sono tre anni Da quando c'è? Da quando c'è? Ma fai 4-5 anni 4-5 anni Prima finale a Roma dove eravamo? Al vinile Al vinile di Roma Al vinile di Roma Come si chiamava? Cicittà World Sì, Cicittà World Allora noi abbiamo fatto 5 edizioni Esatto In realtà ne ho fatto 4 anch'io Perché nella finale non c'erano A Cicittà Nord Bene, vedo che in mano avete dei buoni Sì Sono molto buoni Sono molto buoni? Sono molto buoni Ne sono tanti Sì, sì Ah però Bravi, bravi Avete già Con 6.000 euro di premio Pensate Con 6.000 euro? No 6.000 euro Ok Quale è stato il vostro punto di forza per vincere la Champions Quiz? Lei Loro dicono lei Per voi due? Anche per noi Anche per voi? Sì Mi raccontavo la poesia a Silvia Sì? Sì, vero Bene, volete dire qualcosa? Dozzi Come? Perché sono un fan di Dozzi Ah ecco Bene, bene Allora volete fare un saluto a qualcuno in particolare? Allora io volevo ringraziare il nostro animatore di Firenze perché è bravissimo Troppo buoni E stasera mi farà anche vincere Ah ok Troppo buoni No No, ringrazio Cervellone che finalmente ci ha mandato una persona capace a Firenze Grazie Io posso dire che ringrazio tutte le persone che amano i bravi giocatori e non li odiano come invece altri Bene Io ringrazio tutti i giocatori che grazie a loro è una amicizia fra tutti i concorrenti Eh adesso tocca a te Ma io ringrazio invece i miei compagni di squadra perché insomma la fine abbiamo dato Tutti il contributo e mi ha fatto la partita perfetta E per concludere un saluto a tutti i cervelloni d'Italia Ciao ragazzi Grazie Complimenti Io volevo salutare Ines Ah ok Ciao No volevo salutare davvero Francesco Perché ha avuto una bambina ora Tanti auguri Sei bravissimo E lui è veramente il migliore giocatore Grazie Ciao Ciao Ciao